Allora, questa è la terza trasmissione sulla lettera alla Chiesa di Efeso, lettera contenuta nel libro dell'Apocalisse al capitolo 2. Siccome è la terza volta con oggi che parleremo di questa lettera, penso che sarebbe utile rinfrescarci tutte e tre noi le idee rileggendo il testo e lo faccio io insieme con, alla mia destra, Roberto Sferruzzo, sociologo e pastore di una chiesa a Benevento, alla mia sinistra un altro pastore, Antonio Sorrentino, San Nicola la strada, dove io ho trascorso un anno della mia vita, quindi ho i miei ricordi anche là, ma lui è qui anche perché è un farmacista. Vediamo un po' a che apporto possono dare queste due professioni anche alla meditazione, se volete, una parola molto semplice di questo testo sacro. Facciamo come abbiamo fatto nella prima puntata di questa tavola rotonda sulla lettera alla Chiesa di Efeso, io leggo i primi due versetti, tu continui con gli altri due e abboniamo al nostro Antonio un versetto in più. Allora, il testo biblico nel secondo capitolo dell'Apocalisse, che è, come si sa, l'ultimo libro della Bibbia, il testo dice così, e all'angelo della Chiesa di Efeso scrivi, queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza e so che non puoi sopportare i malvagi e che hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e li hai trovati bugiardi. Roberto? Tu hai sopportato e hai costanza e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabbro dal suo posto, se non ti ravvedi. Tuttavia è questo che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io, che a orecchie ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è in mezzo al paradiso di Dio. Allora la volta scorsa, parlando proprio da questa lettera, abbiamo detto che anche la lezione che si può ricavare in maniera immediata, un messaggio così che non è sublime, è molto chiaro, è che anche i grandi possono cadere. Abbiamo ricordato la storia gloriosa dell'opera del Signore nella città di Efeso e dintorno e abbiamo anche detto chiaramente che una Chiesa così rigogliosa, così robusta, anche da un punto di vista diremmo oggi teologico, anche questa Chiesa a un certo punto è fallita, nel senso che pur avendo tanti lati, tanti pregi aveva comunque, c'era un buco nel sistema e che stava rischiando di minare l'intero sistema ecclesiologico per cui qui bisogna correre e evitare. Lo ricordiamo a beneficio di tutti, senza voler fare i professori nei confronti di nessuno, che questo è il momento storico più o meno, secondo alcuni siamo verso l'ultimo decennio del primo secolo dopo Cristo e il cristianesimo a questo punto è in piena crisi istituzionale. E guarda un po', delle sette lettere scritte alle sette Chiese dell'Asia minore si salvano solo due, non si salva neanche Efeso, si salva Smirne e la Chiesa di Filadelfia. Cinque su sette, o almeno che su sette si salvano due Chiese, insomma qui si parla di una vera e propria crisi, che poi questa crisi istituzionale, crisi del cristianesimo, investa addirittura una delle Chiese più famose nel ministero di Paolo, questo dovrebbe costringerci a riflettere. Allora, noi abbiamo detto che è possibile cadere, però l'ultima volta abbiamo anche dato un messaggio positivo, che è possibile rialzarsi. Io farei un passo indietro, Roberto comincio di nuovo con te, per dire che in realtà qual è il problema di Efeso? Efeso ha perso il suo primo amore, secondo te cos'è questo primo amore? Partiamo da un punto. Denotando il comportamento della Chiesa, vediamo che la Chiesa faceva una forte attenzione ai pericoli che venivano dall'esterno. Da fuori. Da fuori, quindi aveva messo alla prova degli apostoli, aveva trovato i bugiardi e in più praticamente non sopportava i malvaggi. Qua chiariamo che i malvaggi erano quelli non i peccatori del mondo che dovevano ricevere l'Evangelo, ma coloro che mischiandosi in mezzo ai fratelli erano dei falsi fratelli. Io credo che questa eccessiva, questa attenzione giusta, divenne un'attenzione eccessiva, cioè si perse, si iniziarono a levare delle barriere che chiusero questa Chiesa in una sorta di protezione eccessiva e poi si perse il vero senso, cioè vivere l'amore, vivere l'amore di Dio, quel primo amore. Come mi piace descrivere questo primo amore? Leggevo tempo fa una storiella così, no? Un fidanzato parlò ad una fidanzata e disse, così stavano parlando telefonicamente, dice cosa faresti per me? Io mi butterei nel fuoco per te. Cosa faresti per me? E io anche in un mare agitato mi butterei per te. Cosa faresti? Io qualsiasi cosa per te. Ci vediamo stasera, se non piove. Per dire? Per dire che in qualche maniera perdere quell'amore che ci porta a fare le cose più importanti, quelle cose motivate da una sola profonda motivazione che è l'amore. Ecco, quando noi siamo nel momento del fidanzamento, delle prime fasi dell'innemoramento, siamo disponibili a fare di tutto per la persona amata. Se ad esempio noi ci ricordiamo i primi tempi... Però ci vediamo le difficoltà, se comincia a piovere non ci vediamo più. Cioè, voglio dire, se noi pensiamo ai primi momenti con Gesù, ai primi momenti della conversione, io ritengo che quello sia quel primo zelo che dice la parola di Dio bisogna conservare sino alla fine. Quel primo zelo in cui sei disposto ad andare per le strade, predicare l'Evangelo, non ti fai nessun problema per quanto riguarda il tempo, le stagioni, se fa caldo, se fa freddo. Sei lì disponibile a tutto per il Signore. Invece poi arriva un periodo dove tutto diventa una routine, diventa un'abitudine. E io dico che in questo tempo diventiamo vittime dell'obbligo. In qualche maniera perdendo quel primo amore iniziamo a fare le cose perché sentiamo un obbligo di farle. E si perde quel principio della grazia che è un principio di sentirsi liberi davanti al Signore. Il cammino della grazia è il cammino nell'amore, non è il cammino religioso. Devo fare questo perché mi compete. Devo andare a trovare quella persona che è ammalata perché mi compete. Ma sia fatta tra di voi, dice l'Apostolo Paolo, ogni cosa con amore. Quindi se noi la facciamo con amore, ha un valore. Ma se non la facciamo con amore, ecco che ha perso il suo valore, quello che stiamo facendo. Ha perso la sua genuinità. Ecco, questo è il senso. Antonio, com'è che si arriva al punto in cui il fuoco quasi si spegne? Si affievolisce la fiamma. Diventa debole. Noi pentecostali, carismatici, nel senso tecnico direi del termine, poniamo molta enfasi sull'aspetto emozionale perché le emozioni sono espressioni di qualcosa che sta succedendo. Però qualche volta siamo anche soggetti a perdere l'entusiasmo. sei farmacista e insomma ci puoi dare una bella prescrizione medica e ci direi venite da me, vi do io un suggerimento da buon farmacista. Esistono? Esiste la medicina ma la prescrizione quale sarebbe? Allora, sicuramente la medicina è il ritorno alla parola di Dio. La prescrizione è quella che viene dettata appunto da questa epistola. Ricordati da dove sei caduto, ravediti e compi le opere di prima. Questa è una ricetta valida, validissima. Effettivamente il primo amore, così come è nell'esperienza cristiana, è un amore che è sconvolgente perché non l'hai mai provato prima. Perché non è un amore che parte dal tuo cuore e cerca di arrivare a Dio, ma è un amore che da Dio arriva al tuo cuore. Ed è una novità per l'essere umano perché le esperienze relative all'amore si possono dividere in amore agapico e in amore erotico. Nel senso non ovviamente... Spieghiamo, io mi permetto di dire spieghiamo perché ci sono degli spettatori che possono insegnare loro a noi, però mi preoccupo sempre che noi siamo capiti che cosa intendi per amore agapico. Esatto. Allora, l'amore agape è l'amore di Dio che da Dio arriva all'uomo. L'amore erotico che ha assunto poi nel tempo diciamo un'accezione sensuale, ma originariamente non era così, è quel calderone nel quale rientra tutto l'amore che l'uomo è in grado di esprimere, anche verso la divinità. E quindi in questo dualismo l'esperienza dell'amore che noi facciamo quando incontriamo Dio è l'amore che Dio mette nelle nostre vite, con il quale Dio stesso si fa amare da noi. Dio non si fa amare da un amore diverso dal suo. O un'illuminazione dalle vostre due, perché mi pare che ci sia un'incredibile sintonia tra le cose che state dicendo. E cioè che in realtà il modo attraverso il quale noi dovremmo relazionarci, rapportarci con gli altri, dovrebbe essere sulla scala dell'amore. Se ci spostiamo da questo sentimento sublime che è quello che assomiglia di più a Dio, perché lui stesso è amore, noi cadiamo in che cosa? In quale pericolo? Se noi non vediamo più l'altro nell'ottica con la lente dell'amore divino, nello stesso modo in cui lui vede noi, cadiamo nella religiosità. Ma nei rapporti con gli altri cosa succede? Che gli altri diventano... Non c'è più la coinonia, non c'è più quell'amore fraterno, quindi non c'è più diciamo l'elemento essenziale che caratterizza la Chiesa. La Chiesa nasce dall'amore di Dio espresso per mezzo di Gesù Cristo il Signore e quindi se non conserva l'amore di Dio in quanto tale è un'aggregazione, è ecclesia nel senso comune di assemblea, ma non è una Chiesa nel senso congegnato da Dio, nel senso che Dio ha voluto dare alla Chiesa stessa. Volevo focalizzare un po' su questo aspetto particolare, perché ognuno di noi per il solo fatto che esiste emette dei segnali che non sempre sono raccolti in maniera corrispondente alla realtà. Può darsi che io sia a posto, ma tu mi percepisci, mi vedi, mi senti in quel momento particolare in maniera completamente diversa da come io mi sento. Qui abbiamo noi, ma non tanto indirettamente, un'esortazione ad andarci piano. Quando noi osserviamo la vita degli altri, a partire con l'ottica dell'amore, perché altrimenti facciamo un flop oppure possiamo fare quello che vogliamo. E poi Roberto, dal punto di vista sociologico, perché l'uomo, l'essere umano, quando giudica l'altro, quando analizza l'altro, perché si lascia influenzare più dalle cose negative che da quelle positive? Faccio un esempio. Un qualsiasi rappresentante di uno, se io incontro, non so, un calabrese, visto che io sono calabrese, che si comporta male, noi diciamo tutti i calabresi sono così. Perché se il calabrese si comporta, dico calabrese potrebbe essere campano, siciliano, friulano, tutto quello che vogliamo, perché se un rappresentante di una regione si comporta bene, non diciamo che tutti sono buoni come questa persona che abbiamo incontrato. C'è una tendenza nell'essere umano di poter sottenere più l'aspetto negativo nella vita degli altri che quello positivo? Io credo che qui abbiamo, il Signore ci vuole insegnare una cosa molto importante, guardare dentro di noi. Prima di giudicare gli altri? Questa chiesa stava eccellendo, era la chiesa di Efeso, può essere vista come un'eccellenza sotto l'aspetto di guardare negli altri. Io ho visto che tu odi le opere dei Nicolaiti come le opero anch'io, come le odio anch'io, hai messo alla prova i falsi apostoli e le hai trovate in bugiazza. Non sarebbe male anche oggi che c'è la moda di essere facilmente apostolo, non sarebbe male anche indagare su quello. Sì, però c'è anche un aspetto importante che le hanno messi alla prova. Oggi molte volte non siamo manco disponibili a metterle alla prova, facciamo dei giudizi sommari, è partito preso e finisce là. Invece le hanno messi alla prova e le hanno trovati bugiardi. Ma questa propensione... Questo per dire, scusa che ti interrompo, perché questo secondo me ti sta uscendo, mi permetto di dire, una parola di grande saggezza. Cioè noi non necessariamente quando analizziamo ne dobbiamo uscire con un'analisi così distruttiva nella vita degli altri. Prima di arrivare, di sentenziare nei confronti degli altri, dovremmo andarci un po' più alto, dovremmo tirare un po' il freno. Certo. O dovere avere delle prove che l'altro veramente è falso. Allora io credo che si corre il rischio, questo è attuale, io parlo del tempo attuale, si sta correndo il rischio. Io credo che questo sia un messaggio forte, io credo che tutte le lettere alle sette chiese siano messaggi attuali. Anche se c'è qualcuno che pensa che sono storicamente collocati nella storia della chiesa... E' una malformazione... Io penso che è tutta attuale, la parola di Dio è attuale. Ci dice qualcosa a noi oggi, ha detto qualcosa a qualcuno ieri e continuerà a dire sempre qualcosa. Io credo che oggi però in realtà stiamo vivendo un tempo nel quale la chiesa inizia ad avere un'attenzione altissima verso quello è falso, quell'altro è falso, attenzione a questo, attenzione a quell'altro e si iniziano ad alzare delle barriere e in qualche maniera si pensa che la chiesa perfetta sia quella che sta attendo alla sana dottrina, sta attendo a quella che frequentiamo noi. Io credo che gli altri invece non sono buoni, sono da tenere lontano. Io credo che invece la chiesa perfetta, da quello che leggo qua, sia la chiesa perfetta nell'amore. Cioè la perfezione per Dio sta sempre nell'amore, perché l'amore come diceva il pastore Antonio, proviene da Dio, cioè non è un amore che proviene da noi stessi, quindi provenendo da Dio è la perfezione. Cioè quando viviamo nell'amore non facciamo nessun male a prossimo, quando viviamo nell'amore stiamo attenendoci alla sana dottrina, perché poi la legge dei profeti è sintetizzata in una sola parola, ama. Antonio, ma l'amore chiude gli occhi? L'amore apre gli occhi ma non esime colui il quale deve amare, continuare ad amare. Gli Efesini sono stati elogiati dall'Apostolo Paolo all'inizio della sua Epistola per la fede e l'amore che avevano. Però spesso se noi sbilanciamo questo asse a favore e a sfavore dell'uno dell'altra cosa ovviamente ci ritroviamo in un perfetto squilibrio per cui il disappunto di Dio non tarderà a farsi sentire. Noi dobbiamo avere una vita equilibrata che bilancia la fede e l'amore in maniera tale che le cose di Dio si esprimano attraverso la nostra vita ed è una cosa molto semplice. A volte siamo noi che arzigogoliamo, vogliamo per forza, così come fecero gli Efesini, nella volontà di strutturarsi, realizzare un modello che potesse essere spendibile sempre in ogni momento. Ma poi se viene meno l'amore viene meno anche la conoscenza della parola di Dio e quindi tutto quello che è stato detto dal Signore nel prologo di questa Epistola attestando agli Efesini le loro capacità di smascherare, di essere conformi alla sana dottrina, di smascherare i falsi apostoli, di contrapporsi ai malvaggi e tutto questo viene poi nel 420 circa dopo Cristo con il concilio che ci fu ad Efeso viene confutato perché essendo venuti meno nell'amore non è che c'è comunque la compensazione della fede ma c'è lo svilimento anche della fede, quindi della fede relativa alla conoscenza della parola di Dio. Tant'è vero che in quel contesto, dopo l'inizio dell'impero di Costantino e quindi dell'istituzionalizzazione anche in senso più ampio del cristianesimo, la città di Efeso vede l'attribuzione a Maria di una capacità divina che poi ritroviamo nella formulazione del dogma dell'immacolata concezione cattolica, quindi morale della favola, se vieni meno nell'amore verrai meno anche nella conoscenza e quindi nella fede, non c'è una possibilità compensativa e quindi questo è l'insegnamento che Dio ci vuole dare affinché sappiamo recuperare tanto la fede quanto l'amore senza discostarci da questo, da questa fede, da questo amore che da Dio procede e non dall'uomo. Allora io vorrei ritornare a quello che abbiamo detto nella precedente trasmissione sempre su questa lettera quando abbiamo parlato, ho parlato io, usando un'espressione tecnica inglese dalla psicologia in inglese, field dependent, cioè quando l'individuo si lascia condizionare dal proprio ambiente e questo è un pericolo al quale tu hai anche accennato prima, attraverso tu dicevi social media, perché hai fatto riferimento che i social media stanno amplificando questa tendenza? Prima a svergognare tutti, andare a cercare, potremmo dire che ci sono credenti che vanno in giro con il metal detector? Ce n'è qualcuno nel particolare, di professione, non facciamo nomi e cognomi. No, io appunto, esaminando un poco quello che avviene sui social network, vediamo che purtroppo… Tu sociologicamente lo vedi questo? Sì, lo vedo, questa tendenza ad elevare barriere piuttosto che a toglierle, a mettere dei punti, a cercare di capire l'altra persona, anche se un fratello ad esempio è caduto, e può succedere, anche chi pensa di stare… Diciamo anche una sorella, no? Sì, sì, vabbè, io dico generico, cioè nel senso che chi crede di essere immuno da questo si sta sbagliando, tutti possiamo… Cioè è un grande illuso. È un grande illuso, tutti possiamo cadere. Ci deve essere sempre una speranza e una possibilità di rialzare quella persona, anche guardando dentro alla lettera alla chiesa di EF, è una speranza, cioè ci insegna anche che c'è una speranza che chi è caduto, che chi ha perso il suo primo amore, che chi è venuto meno può ritornare a fare le opere di prima, può essere redento, può essere riabilitato, può essere recuperato. Allora possiamo dire che il vero credente, non è questo l'obiettivo di questa lettera, comunque, possiamo dire che il vero credente, quello che è sano, che veramente ama, è chi è quello che tenta di redimere, in fondo la Bibbia dice che chi ha salvato il fratello dallo sviamento, ha salvato umani, una persona. Il vero credente è quello che cerca di redimere, non quello che cerca di sentenziare. Tu sei d'accordo? Indubbiamente sì. Tu sei farmacista, tu a chi sta male dai medicina, sì o no? Certo, ma… Cioè non è che dici, no, siccome stai male… Assolutamente, si fa sempre addirittura una valutazione, rischio-beneficio, quando poi si somministra… Ma il tuo obiettivo è quello di portare salute agli altri? Assolutamente sì. Non dovrebbe essere anche il Ministero questo? Il Ministero fa per l'appunto questo e il discorso è appunto che se ragioniamo anche dal punto di vista psicologico, per quale motivo ci siano persone che fanno questo gioco di cui parlava il pastore Roberto, è perché in questa maniera aumentano il proprio ego, cercano di sentirsi meglio gratificati, quindi una gratificazione che non procede dall'opera dello Spirito Santo, dall'opera di Dio nella nostra vita, ma una gratificazione costruita d'arte in base alla riduzione delle persone che ti stanno attorno, diciamo all'annullamento delle persone che stanno attorno rispetto invece al fatto di emulare la persona di Gesù Cristo che sarebbe la cosa più sensata. mi viene in mente giustamente su chi fa presa poi questa realtà, c'è un elemento che scientificamente si chiama patching, con il quale si effettua il contagio, magari sarà un momento di influenza questo, no? E allora che cosa succede? Se io sono influenzato e starnutisco o do un colpo di tosse sulla mia mano e poi vengo e ti stringo la mano, avrò trasferito parte dei miei virus o batteri, quelli che sono, alla tua mano. Se tu hai le difese immunitarie basse e ti passi questa mano lì dove puoi prendere l'infezione e quindi ci può essere un trasferimento all'interno del tuo organismo di quei batteri, quei batteri, quei virus avranno diciamo il sopravvento sul tuo stato di salute e quindi ti indurranno ad avere la mia stessa patologia. Ecco, quindi la parola di Dio ci dà il vaccino, il vaccino è l'amore, perché se sappiamo amare non saremo immunodepressi sotto questo punto, sotto questo profilo spirituale e quindi saremmo in grado di far fronte a questo problema. Allora, insomma, stiamo dicendo che bisogna stare molto attenti, come vi ho detto, mi pare nella precedente puntata, sempre su questa lettera, di tirare il freno e se per caso dovessimo essere tentati di andare a cercare il pelo nell'uovo, perché comunque se lo cerchiamo lo troveremo. Assolutamente. Forse sarebbe il caso che qualcuno si esaminasse allo specchio, prima di andare in giro a trovare il neo che abbiamo da qualche parte, perché in realtà il male può essere anche diffuso. Io vorrei concludere però queste tre puntate dicendo una cosa interessante. Abbiamo detto cose interessanti? Interessante dal punto di vista della conclusione di questa lettera. Abbiamo detto durante le precedenti trasmissioni, anche in questo, che è possibile cadere, anche i più grandi cadono, che si possono riprendere. Com'è che ci si riprende? Com'è che si recupera? Qui nel caso di Efeso abbiamo ancora 3-4 minuti, nel caso della chiesa di Efeso la ricetta, visto che abbiamo un farmacista è molto semplice, e dice, fai le opere di prima. E io qui lo trovo un po' strano dal punto di vista umano. Cioè, sembrerebbe che in realtà non occorre scervellarsi per capire che cosa dobbiamo fare per recuperare il passato, torna a fare quello che faceva una volta. Siete d'accordo voi due che quando ci siamo, come diciamo noi, convertiti, avevamo un tale zero, una tale passione, un tale amore per il Signore, che eravamo anche molto attivi, che facevamo delle cose. Ad esempio, non passava giorno che non pregassimo, che non leggessimo le Sacre Scritture. Qualcuno ci metteva di mezzo anche il digiuno. Siamo fuori dalla grazia del cielo, se noi diciamo ai nostri telespettatori, guardate che recuperare il passato, riaprirsi, riaversi, rialzarsi, non è così difficile. Pregavi molto una volta, torna a pregare, digiunavi una volta, torna a digiunare. E poi, secondo me, c'è un aspetto fondamentale che qui dobbiamo sottolineare. Mi pare che la preoccupazione di questa lettera non sia quello di ritornare ai sentimenti di una volta, di recuperare il passato e passato. Come si dice in napoletano? In napoletano è inutile, cioè piangersi addosso eccessivamente, perché ormai è andata male, però possiamo recuperare il tempo. Qui, come lo recuperiamo? Una battuta a tutti e due, poi chiudiamo con una preghiera. Qui dice, fai quello che facevi prima, è sufficiente fare quello che facevamo di buono, naturalmente. Io credo che qui dice, ma io ho questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore, ricordati dunque da dove sei caduto. Il termine che rende l'idea è da quale altezza sei caduto, cioè dove ti sei fermato, che cosa ti ha fermato, che cosa ti ha bloccato, che cosa ti ha fatto perdere questa gioia e semplicità di cuore. La Chiesa degli Atti degli Apostoli era una Chiesa che viveva nella gioia e nella semplicità di cuore. Vedi da dove, da quale altezza, a quale punto si è fermato tutto il meccanismo di vivere la pienezza dell'amore di Dio. Che cosa è stata una ferita? Che cosa è stata un'offesa? Che cosa è stata una mancanza di perdono? Che cosa è stata non hai trovato la Chiesa perfetta? Una delusione di un pastore, di un fratello, di una sorella, di un amico, di un parente? Quello che è stato, stato, vai a vedere il punto dove sei caduto e ritorna a fare le opere, non di quelle di adesso, dopo la ferita, dopo il dolore, dopo la sofferenza, dopo la delusione, ma quelle di prima, quella della semplicità, della gioia, della pienezza dello Spirito Santo e ritorna a fare quello. Semplicemente questa è la ricetta. Mi piace molto l'immagine del meccanismo per una ragione molto semplice, perché in realtà me l'hai tirato di bocca e stavo per dirlo. Cioè, quando, Antonio, qui dobbiamo, deve essere sinteticissimo, quando il meccanismo si inceppa, deve essere farmacologico, quando il meccanismo si inceppa, non dovremmo andare a vedere dove si è inceppato o no? Certamente che dobbiamo andare a vedere dove si è inceppato, perché la nostra psicologia tende a dimenticare, tende ad oscurare quei processi che hanno determinato un momento lesivo nella nostra vita. Quindi non è quello che la parola di Dio consiglia, anzi, il Signore dice proprio, guarda da dove sei caduto, ravvediti, che è un elemento essenziale, e ritorna a fare le opere di prima, che sono descritte nella prima epistola dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 13, dal verso 4 al verso 7. I primi tre versi sono stupendi, sono bellissimi, parla dell'eccellenza dell'amore, ma poi entra nel pratico di che cos'è quest'amore, cioè che cos'è quest'amore? L'amore non si gonfia, non si vanta, non sospetta il male, non gioisce nell'ingiustizia, crede ogni cosa, spero ogni cosa, insomma, c'è una ricetta pratica, quindi non è una teoria, cioè ritorna a fare le opere di prima determinate dall'amore agape di Dio. Abbiamo lasciato fuori un concetto teologico che è fondamentale, che è basilare, e se ci osservano, ci hanno osservato, ci hanno seguito biblisti, esegeti, teologi, possiamo dire che ci siamo resi conto che non abbiamo toccato un punto fondamentale, ravvediti, il ravvedimento è fondamentale nella vita cristiana. Come si dice a Napoli, nada vuoto, facciamo una prossima volta, parleremo di ravvedimento, allora, se non sbaglio, nella prima trasmissione hai pregato tu e tu nella seconda? No, nella seconda non abbiamo pregato, l'abbiamo rimandato a questo momento. Mi dispiace se chiuderò io con una preghiera. Assolutamente, vai. Allora, Signore Padre Celeste, ti vogliamo ringraziare per questa idea di leggere la Sacra Scrittura, questa pagina della tua parola, in questo modo, con l'apporto di Roberto e di Antonio e di guardare le Sacre Scritture con tanta passione, con la volontà di imparare, anche dagli errori degli altri. Grazie. In questo momento di intercessione e preghiera, Signore, il nostro pensiero va soprattutto ai nostri telespettatori, ricordando che comunque noi per primi, noi tre, abbiamo bisogno della tua grazia, del tuo aiuto, della tua unzione, della tua guida e della tua potenza e del tuo amore. E poi vogliamo pregare per coloro che ci hanno seguito in questa trasmissione, perché se sono caduti, vogliamo lasciare loro una parola di incoraggiamento e di speranza. Se lo vogliono, possono rialzarsi, se si ravvedono e tornano a te, Signore. Preghiamo e benedici anche le attività e questo straordinario strumento di comunicazione che, in parole di vita, benedici il nostro paese, Signore, dalle Alpi alla Sicilia. Grazie. Te lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Allora, grazie Roberto, grazie Antonio. Ci vediamo ad una prossima tavola rotonda. Ok. 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 Grazie.